Pace e bene a tutti, benvenuti anche oggi al nostro appuntamento con la Santità. Un giorno un santo e anche oggi, 22 gennaio, noi siamo presenti e ricordiamo insieme a voi San Vincenzo Pallotti. Lo facciamo in via speciale oggi con un testimone molto importante. Abbiamo padre Jacob Nampucadam che dall'India in questo momento ci offrirà la sua testimonianza. Padre Jacob, benvenuto, grazie per aver accolto il nostro invito. Grazie a voi. Ecco, padre Jacob è il rettore generale della Società dell'Apostolato Cattolico, meglio conosciuti come Padri Pallottini, proprio fondata da San Vincenzo. Padre Jacob, io noto che tu sei indiano e San Vincenzo è nato a cavallo, vissuto a cavallo tra il 700 e l'800 a Roma. Come è arrivato il suo messaggio a te, Giovanni Indiano, e come ha conquistato il tuo cuore? Prima di tutto vorrei ringraziare a Tallo, la televisione di Padre Pio, per questa grande possibilità di condividere un messaggio con voi, l'occasione della festa del nostro Santo Fondatore. Bene, sono un indiano, vengo dal Kerala, ho una famiglia molto grande, di dieci figli, una famiglia molto cattolica. Allora, i Pallottini tedeschi sono arrivati in India nel 1951, hanno iniziato la missione nel nord dell'India, poi piano a piano la missione è stata sviluppata, poi abbiamo quattro province e una regione in India, poi ci sono le suore Pallottine, laici, e ormai ho diventato una grande presenza Pallottina in India. Perché sono diventato in Pallottino? Sicuramente non ho conosciuto molto di Pallotti all'inizio, ma quello che mi ha attirato è stata sempre la missione. Ho letto, ho sperimentato, tante cose riguardanti i lavori dei missionari nel nord dell'India, quindi ho voluto essere un missionario, e sono entrato nel seminario, e ho nato un sacerdote, e oggi conosco il Vincenzo, e sono molto contento di essere un Pallottino, un sacerdote Pallottino. Ecco, l'India, questa terra grandissima dove sono presenti quasi tutte le religioni, dobbiamo dire anche questo, e il cristianesimo forse è lo scarso 3-3%. Venendo sempre a San Vincenzo, qual è la spiritualità? Proprio parlando del suo carisma, tu hai parlato della missionarietà, ma cosa propone questa missionarietà alle genti che l'accolgono? Oggi la Chiesa parla molto del processo sinerale, e usano sempre tre parole, comunione, partecipazione e missione. Possiamo dire che la spiritualità di Pallotti è proprio questa spiritualità del sinero, Pallotti diceva spesso del cenacolo, il cenacolo come un luogo di formazione dei missionari, discepoli di Gesù Cristo, sotto la guida di Maria Regina degli Apostoli e lo Spirito Santo. Una comunità di preghiera, di adorazione, è per uscire dal cenacolo come missionari, per evangelizzare tutto il mondo. Allora, Pallotti era un mistico, un grande santo e profetico che ha creduto in una Chiesa di comunione, con la participazione di tutti i fedeli della missione della Chiesa. Perciò il 1839 ha iniziato già la fondazione Unione, nel 1835, precisamente il 9 gennaio, ha fondato l'Unione dell'Apostolato Cattolico per l'evangelizzazione, poi ravvivare la fede, ricendere la carità dei fedeli, e anche per opere socio-cattativo. E tu che, in una parola, un profeta di comunione, se lui incensò. Profeta di comunione che fu profetico anche in questo. Noi sappiamo che lui cercò di incentivare, benediceva, già molto tempo prima, il Concilio Vaticano II, che l'avrebbe poi professata come una verità della Chiesa, proprio il coinvolgimento dei laici, coloro che non erano consacrati, non erano sacerdoti, ma per San Vincenzo erano già dei protagonisti che dovevano diventare sempre più attivi nel mondo della Chiesa, giusto? Proprio così, sì. Noi siamo tutti apostoli, missionari, abbiamo la stessa degnità, stessa responsabilità, e tutti noi dobbiamo lavorare insieme per il Regno di Dio. Questo è stato il messaggio di Palotti. Oggi è molto attuale. È molto concreto. Anche parlando di attualità, pensando al panorama italiano che tu da generale conoscerai sicuramente, e pensando anche alle correnti di pensiero che girano nella nostra Europa, come potrebbe essere una provocazione che proprio ci può arrivare tramite il carisma di San Vincenzo, secondo quello che è il tuo sapere? Italia è una terra dei santi, tutti noi sappiamo. Un santo che io amo tanto è San Francesco di Assisi. Proprio San Vincenzo voleva anche essere un francescano. La sua salute non era così buona, ma perciò è rimasto un francescano nel suo cuore fino alla fine. Allora, la via di San Francesco è la via non soltanto per Italia, la via per tutto il mondo oggi. Perciò anche il Papa Francesco ha scelto questo nome. Anche io sono un grande ammiratore di Papa Francesco, ciò che lui insegna, ciò che dimostra, sono le cose importantissime per gli italiani, per tutti noi. Allora, una via, una vita secondo il Vangelo, proprio. Incontrare il Gesù del Vangelo, un Gesù povero, obbediente. E non soltanto una teoria, una dogma, ma incontrare proprio questo Gesù nel Vangelo. Così ha detto anche San Vincenzo, l'unica regola della nostra vita dovrebbe essere la vita di Gesù Cristo. Dunque, una Chiesa povera, per i poveri, una grande missionarietà. Come Rettore Generale è stata la mia passione di andare alle periferie. Io veramente credo in questo, fino a quando andiamo alle periferie della fede, dell'esistenza, avremo la vita, la gioia, noi saremo una Chiesa vivace. Allora, questo è l'appello agli italiani. Mi piace l'Italia, anche per la gente accogliente. Oggi noi lavoriamo in quasi 12 diocese in Italia. La gente è molto accogliente. La Chiesa rimane ancora molto cattolica, grazie ai Santi, tanti Santi, anche al Padre Pio. Allora, questo è il mio appello anche ai giovani. Cerchiamo di vivere i valori del Vangelo che porto nella vita eterna. E grazie di cuore Padre Giacobo per questo messaggio insomma, anche di rinascita e di affetto per la nostra terra italiana. Veramente che San Vincenzo ci benedica, ci accompagni e continui a suscitare vocazioni per tutto il mondo, sempre come dicevi tu, per un incontro genuino con Cristo nel Vangelo. Ti ringrazio ancora di cuore da parte di noi qui, frati Cappuccini e insieme, proprio invocando la benedizione di San Vincenzo, diciamo insieme San Vincenzo prega per noi. San Vincenzo prega per noi. Grazie di nuovo da tutti i pallottini, pallottine, tutto il mondo. Buona festa a voi. di San Vincenzo l'ispa di San Vincenzo di San Vincenzo Grazie a tutti.